Preside Letizia Spagnolo si conclude un altro anno scolastico, un anno difficile e complesso per il liceo Gaetano De Bottis. Qual è la sintesi di questa annualità, qual è il bilancio che lei trae al netto di un anno ricco davvero di lavori ed imprevisti? Siamo arrivati alla fine dell'anno, per noi oggi è l'ultimo giorno di scuola e con tante difficoltà organizzative sia per tutta la comunità De Bottis, per la scuola, per i docenti, per gli alunni e le loro famiglie. A settembre cominceremo un orario solo mattutino, quindi sono esclusi i doppi turni, ci saranno ancora dei lavori in corso ma interesseranno solo gli uffici di segreteria, di presidenza, ma ci hanno garantito che a settembre i ragazzi cominceranno un orario tra virgolette normale. Da dirigente scolastica, qual è il suo personale bilancio? Come è stato guidare il liceo in questo anno davvero complesso? È stato inizialmente molto difficile perché ho trovato molte incomprensioni anche da parte delle famiglie e la mia chiave di lettura è stata perché la notizia è arrivata in maniera immediata a settembre, nessuno era preparato a questo cambiamento, quindi ha destabilizzato un po' l'organizzazione di tutti, soprattutto delle famiglie. Però posso dire che nel tempo, come tutti i cambiamenti, poi c'è una fase di assestamento. Quindi posso dire che quest'anno verosimilmente abbiamo fatto anche molte attività, abbiamo arricchito molto l'offerta formativa e la partecipazione dei ragazzi, nonostante ci fossero degli orari anche un po' sacrificati, molte attività di scuola viva si sono svolte dalle 18 alle 20, perché era l'orario in cui uscivano i ragazzi, ha visto una grande partecipazione e questo dimostra che comunque i ragazzi a scuola si sono impegnati al massimo delle loro possibilità. Io sto monitorando insieme ai tecnici della città metropolitana i lavori e dal 12 giugno sarà interessato il lavoro all'Aula Magna che mi hanno detto che probabilmente a settembre ci consegneranno anche l'Aula Magna, che per noi è fondamentale per tutte le attività che si svolgeranno. Ho già visionato i lavori e sono tutti quasi terminati nelle classi, quindi posso dire con certezza che a settembre cominceremo un regolare anno scolastico. Grazie Grazie Grazie